Che cosa abbiamo qui? Omicidio, morte per strangolamento, visibili segni sul collo, forse un venusaur? No, le liane di un venusaur si sarebbero spezzate come un fuscello. C'è stata una lotta, ci sono dei residui di liana sotto le unghie. Pensi che sia... heavy sour? Bulbasaur? Controlla la pelle, cosa vedi? Non c'è sangue! Giga assorbimento. Quale mostro farebbe una cosa del genere? Siamo tutti dei mostri, Jake. Mostri nelle tasche di Dio. Siamo tutti i nostri.